Eccolo qua, Giorgio Pesenti e la sua partita d'addio, l'Atrizium del 2010-2011 che si è ritrovata contro l'Atrizium del 2016-2017. 3-1 in risultato finale, una grande festa, l'ultimo gol proprio il suo. Giorgio Pesenti qui alla Rocca sotto la sua curva che vediamo altre spalle, emozioni Giorgio? Ha vinto l'Atrizium per forza, per forza come organizzazione bellissima. Stefano sei stato un grande, ti devo molto per questo riconoscimento, come devo molto a tutti i tuoi ragazzi che tutte le domeniche ti hanno sentito tutte le trasferte. Nonostante fossimo in prima categoria, mi vengono in mente i miei ex compagni di squadra della gloriosa Atrizium. Mi viene la pelle d'occa solo a vederli giocare in campo, sono ancora un numero uno, tanta roba veramente. Grazie di cuore a tutti. La partita è bene l'Atrizium di quest'anno, con molta grinta, molta cattiveria, poi dopo la qualità degli altri è venuta fuori, con dal dosso, corti e chimenti, casiraghi, un centro campo. Diciamo che io davo una mano alla squadra avversaria in qualunque posto di caso. Faccio fatica, è quattro mesi che ormai abbiamo la testa di vacanza dopo la vittoria del campionato netta. Gli allenamenti sono stati abbastanza leggeri, sono arrivato qua che obiettivamente speravo e mi auguravo che non si facesse male a nessuno. Io probabilmente mi sono stirato però non è più un problema, anzi magari eviterò di andare a fare qualche torneo notturno purtroppo. Grazie Giorgio, ti auguro, grazie a voi di cuore, grazie tante, ciao a tutti. Se volete dire qualcosa, complimenti a Giorgio Resenti stasera, speriamo di avere una grandissima serata, bocca al lupo per tutti. Se tiene tempo sarà, sarà.